È finita 72 a 60 ma soprattutto è finito l'assalto al campionato A2 per la Lio Filkem Roseto. La promozione infatti se l'è assicurata il team di Nardò anche se la Lio Filkem ha condotto gran parte della gara. Il finale però è stato tutto della squadra pugliese. Nella sfida decisiva in Puglia Roseto è caduta a Nardò 72 a 60, ha condotto il gioco per tre quarti di gara e poi invece il quintetto pugliese ha vinto la serie 3-2 e ha proda in A2. Ultimo quarto fatale alla Lio Filkem Roseto ma i ragazzi di Coach Trullo hanno giocato comunque una partita coraggiosa e importante condotta per tre frazioni. La profondità della panchina pugliese è stata determinante. Nardò vola in A2 ma la stagione della Lio Filkem rimane molto positiva e dà applausi. In casa bianca azzurra 18 punti per Amoroso e Nicolic. Grazie a tutti.